In modo anche di disturbarsi, Vinter Tagliato e voglio, è molto alta e il Milan Simeone, poi Giorcaef è fuori gioco nei confronti di Ronaldo Sì, in effetti Ronaldo era in posizione abbastanza Si riparte da Colonnese Ronaldo, un po' dimenticato dalla difesa del Milan Punta Cardone, doppio passo Da parte dell'Inter se dovesse uscire perché un giocatore, il giocatore dell'Inter più dotato Tanto in slalom Vinter Lancio di Giorcaef ma c'era la bandierina alzata Ho visto Cardone Tanto qui stiamo rivedendo però Qua scusate ma la posizione di Ronaldo era regolare Riesce a controllare il pallone, Moriero Ronaldo Con un fallo da Zigue A proposito di Giorcaef, Massimo è difficile Arduo il suo compito questa sera perché deve dare manforte al centrocampo E deve cercare di sostenere Ronaldo A volte troppo isolato Lo cerca continuamente E come vedi, non so se i nostri telespettatori l'hanno dotato Cerco continuamente gli spazi Giorca Cinque uomini in barriera Prova Ronaldo Pallone che si impenna Sarà calcio d'angolo Riesce a fermare Moriero Va incontro proprio Ronaldo L'hanno fatto temere addirittura una sostituzione Moriero Va in slalom Ronaldo e poi il signor Bazzoli facendo che si può proseguire Perché non c'è stato contatto La sensazione che ho avuto anch'io devo dire Aspettiamo una ripetizione Qua rivediamo Perché se ne va poi ho avuto la sensazione che non sia stato contrastato E in effetti non lo tocca a Maldini No, poi c'è stato un fallo successivo però Attenzione perché il calcio di punizione è per l'Inter Sì ma non per l'intervento che stavamo descrivendo subito da Ronaldo Per quello che è accaduto poi sugli sviluppi dell'azione Esatto, avevamo visto bene Aveva visto bene anche Bazzoli in questo caso qua Perché Ronaldo è del passo L'Inter ottiene comunque un calcio di punizione Posizione centrale Giorcaef, filtrante Ronaldo Uno degli attaccanti Due a più punta e Kluivert più dieci Ronaldo Al centro va addirittura Simeone La prende con i compagni che non lo seguono per la disposizione del muro Rossi prova Ancora Ronaldo C'è ancora una deviazione Non quadrava nel Milan Ci cerca più velocità in questo secondo tempo Per dare di più Albertini In agilità Moriero Colpo di tacco La carica per l'Inter Taglia il campo dove c'è Ronaldo Sale anche Sanetti Apre il barco centrale al brasiliano Simeone per Ronaldo Scatta Giorcaef Largo c'è Moriero Arriva Vinter Eccolo Moriero Tunnel E danni di Zieghe Poi fermato Ronaldo Damaldini Con un fallo Altro cartellino giallo E' certo che Moriero Zieghe soffre Soffre Moriero Lo ha sofferto nel derby d'andata Soffre la sua rapidità E' chiaro che è un passo È un passo diverso Ma è un giocatore che soffre terribilmente Ricordo il primo tempo Del primo tempo del derby d'andata Comunque è un giocatore Direi che è una grande rivelazione Eccellente il contributo Che sta dando questa sera E poi Tutto l'arco del campionato Moriero Checco Moriero Alla squadra interista Qua rivediamo l'intervento di Maldini Indubbiamente meritevole Di sanzione Di Moriero Attenzione a Ronaldo Punizione deviata E anche in questo caso È un brivido Adesso Ma l'Inter riparte da dietro Per evitare la trappola del fuorigioco Di Diva Arretrato Quasi nella posizione Di terzino destro Si protegge molto bene Sulla sua tre quarti L'abbiamo visto Addirittura con Giorcaef Nella sua area E Simeone al limite Direi che A Milan Ci sta mettendo il cuore L'anima Ecco forse In quell'occasione Di precedente Avrebbe anche meritato Il parigi Lancio di Simeone Attenzione a Ronaldo L'anticipo Perfetto A Ronaldo Che va a battere Il calcio d'angolo Passo arretrato Si muove nervosamente A bordo campo Come hai fatto notare tu Si è arrivato La giaccavento Per essere più libero In movimenti È un capello Che sta costruendo In questo secondo tempo Un Milan Attenzione al contrattacco Arrestrato da Bergomi Ronaldo per Bergomi Arriva a supporto In basso Anche Moriero Inserimento di Simeone Il lancio è per Moriero Posizione regolare In area Moriero Destro Largo Ecco Il nostro occhio Cade invece adesso Sul cronometro E sono 31 i minuti Nella ripresa Lancio di Moriero Per Ronaldo Rete Il raddoppio Dell'Inter Con Ronaldo Ronaldo Ed è il diciassettesimo Gole in campionato Per Ronaldo L'Inter Ancora una volta Estremamente pratica Moriero Pesca in area Ronaldo Un nell'op su Rossi Ed è il 2-0 E tutti i giocatori Della panchina Guardate Ad abbracciare Checco Moriero Checco Moriero Chico Non lo so come si dice Però Chiaramente Un passaggio L'uscita anche di Guardate A metà strada Di Sebastiano Rossi Niente Da fare Sul pallonetto Da parte di Ronaldo Direi In sintonia Questi due giocatori Moriero E Ronaldo Grandissimo gesto tecnico Di Moriero Che ha pennellato Per Ronaldo Ronaldo Straordinario Perché il pallone è alto Lui va con l'esterno destro Guardate Con scarsa Coordinazione Riesce ad avere La fotografia immediata Della posizione Del portiere Della porta E poi può andare A gioire In campionato Per la 17esima volta 23esimo gol Stagionale Con la maglia Dell'Inter Mentre Ganza Si lamenta Per aver ricevuto Una spinta Ha ricevuto una spinta Da Bergomi Ma non mi sembrava Assolutamente una spinta Da Peter Sancire Con un calcio di rigore Assolutamente Tra l'altro Molto nervoso Anche Maurizio E' un calcio di ragazzi Etichettato come il tradito Nel mucchio E' stato Bergomi A giganteggiare su tutti Ronaldo Si distempa Manda dentro Anche Canu Probabilmente Al posto di Moriero Ma c'è tempo Per lo slalom Di Ronaldo Il Milan Va Milan deve sempre rincorrere Non è facile Siamo A poco più di 5 minuti Dalla fine Fischia abbastanza Prevedibili Per Forse meritate Col Canu Con molta calma Si distende l'Inter E adesso sono addirittura In 2 contro 0 Simeone C'è anche Ronaldo Simeone Prova a triplare Rossi E' uscito Rossi Simeone Rete E' il terzo gol Ha meritato il vantaggio Comunque Ronaldo Per Eccoè Riesce ad allargare Rossi Ancora si opporre Riesce ad allargare Riesce ad allargare